La depressione è un'epidemia di portata mondiale. Nel 2020, secondo le stime dell'OMS, la depressione sarà la più diffusa malattia del pianeta. Personalmente credo che la maggior parte delle depressioni abbiano le sue radici nella solitudine, ma la comunità medica preferisce parlare di depressione piuttosto che di solitudine. È più facile liberarci del problema dando una diagnosi e una scatola di farmaci. Perché se cominciassimo a parlare di solitudine sapremmo per certo che non ci sono farmaci. Non c'è industria medica che tenga. Basta l'amore umano. E la cosa meravigliosa è che non serve una scuola di formazione per essere amanti. Tuttavia c'è sempre uno squilibrio tra quanti continuano ad ammalarsi di questa malattia e coloro i quali cercano ognun per sé di arginarla.